Affluenza record di pubblico, ben oltre le aspettative, nelle tre serate di Cioccolariano. Tutto ha funzionato alla perfezione. Una finestra di primavera molto apprezzata dalla gente, giunta anche da fuori regione per ammirare le bontà del cioccolato. In migliaia hanno affollato la tendo struttura e il centro storico di Ariano Irpino per partecipare alla prima festa del genere sul Tricolle. Prelibatezze sono state offerte dagli studenti dell'istituto alberghiero, dai pasticcieri arenesi e dai vari standisti. Tra i diversi prodotti e tra le svariate declinazioni con le quali il cioccolato è stato proposto, i dolci senza glutine a disposizione delle persone celiache. Grande curiosità ha destato il Tricolle, una vera e propria scultura che rappresentava i Tricolli di Ariano ma che sotto celava una sorpresa pasticcera. Abbinamenti raffinati ed atmosfera elegante ovunque, degustazioni abbinate a diversi tipi di dolci, al cioccolato con vini e liquori. Interesse anche per la mostra a cura dell'associazione DNA delle locandine d'epoca sul cioccolato, un percorso su come si è evoluta la grafica nell'ambito del settore dolciario. Non sono mancati momenti di spettacolo per i bambini, animazione itinerante e musica. Grande soddisfazione da parte delle numerose famiglie ma soprattutto del centro commerciale naturale Ariano Centro Storico che in maniera compatta grazie anche al sostegno dell'amministrazione comunale è riuscito a mettere su una manifestazione di grande richiamo turistico, sicuramente da ripetere visto il grande successo ottenuto. Per il maestro del cioccolato Ciro Majorano si è trattato di una prima iniziativa che potrà sicuramente essere riproposta nella prossima primavera visto il grande interesse e successo ottenuto. Grazie a tutti!